Italo Svevo I primi romanzi Tra il 1888 e il 1892, Svevo si dedica alla stesura del suo primo romanzo, Una vita. Il protagonista, Alfonso Nitti, è un giovane con aspirazioni letterarie costretto dopo la morte del padre ad accettare un impiego in banca. Egli tenta una scalata sociale seducendo la figlia del proprio datore di lavoro, ma preso da un inspiegabile paura, rinuncia al matrimonio, e finisce per cercare la morte come unica via di scampo all'infelicità e al disprezzo che lo circondano. Alfonso incarna in modo esemplare la figura dell'inetto, un individuo debole e insicuro che non riesce ad adattarsi alla vita perché non è in grado di conciliare i suoi sentimenti e le personali aspirazioni, con il mondo reale. L'inettitudine del protagonista viene messa in risalto anche attraverso il confronto con gli antagonisti, che incarnano l'immagine dell'uomo virile e forte, perfettamente adatto alla vita. Nel romanzo, Svevo non si limita a ritrarre una condizione psicologica, ma individua le radici sociali dell'inettitudine nel mondo borghese triestino, fondato sui valori del profitto, della produttività e dell'intraprendenza, che accentuano il senso di diversità e inferiorità del protagonista. Alfonso potrebbe essere felice se solo si accontentasse di coltivare il suo interesse per lo studio e la cultura umanistica, e invece si affanna in una continua ricerca di denaro e di potere, per entrare a far parte dell'alta società. Quando comprende che i suoi sogni di successo sono del tutto irrealizzabili e destinati al totale fallimento, non gli resta altra soluzione che il suicidio. L'opera è caratterizzata dalla presenza di numerosi riferimenti alle esperienze biografiche dell'autore, e rivela forti legami con i modelli più illustri della narrativa moderna, primi fra tutti i romanzi della scalata sociale di Stendhal, Balzac e Maupassant, e i romanzi di formazione di Goethe e di Flaubert. Appare evidente anche l'influenza di Zola, e del romanzo naturalistico, nello sforzo di ricostruire dettagliatamente l'ambiente sociale in cui si svolgono le vicende, e nella rappresentazione della lotta per la vita, che il protagonista deve sostenere per non essere sopraffatto dai meccanismi della società capitalistica. Per quanto riguarda l'impostazione narrativa, la prima opera di Svevo conserva alcune soluzioni del romanzo naturalistico ottocentesco, come la narrazione in terza persona, ma si avvicina molto di più al moderno romanzo psicologico, dal momento che le situazioni, i personaggi e gli eventi sono descritti dal punto di vista rigorosamente soggettivo di Alfonso. Il romanzo presenta però una sua peculiarità rispetto alla narrativa psicologica contemporanea. Nella coscienza complessa e tortuosa del protagonista, si intrecciano idee, fantasie e impulsi incomprensibili, generando un processo psicologico che quasi mai segue una logica chiara e coerente. Il narratore interviene sistematicamente con i suoi commenti, per correggere i falsi giudizi e smascherare gli autoinganni del protagonista, e in questo modo si viene a creare un'alternanza di punti di vista opposti, che consente all'autore di mantenere un atteggiamento critico e problematico. Nel 1898 esce il secondo romanzo di Svevo intitolato Senilità, in cui l'indagine sulla dimensione psicologica diventa l'esclusivo oggetto di interesse dell'autore. Il protagonista, Emilio Brentani, dopo essersi distinto in gioventù come autore di un romanzo, abbandona la sua attività letteraria e conduce un'esistenza grigia, lavorando come impiegato presso una compagnia di assicurazioni. L'insoddisfazione lo spinge a cercare un'avventura con Angiolina, una ragazza di modesta condizione di cui si innamora, ma che si rivela superficiale e bugiarda. La morte di sua sorella Amalia, che lo accudiva come una madre, e la scoperta dei tradimenti di Angiolina spingono Emilio a chiudersi in un'esistenza solitaria fatta di ricordi. La scelta del titolo fa riferimento alla particolare condizione del protagonista, che pur avendo soltanto 35 anni, sceglie di condurre un'esistenza senile, fatta di rinunce e privazioni, perché è incapace di rapportarsi con il mondo esterno e ha paura di affrontare la vita. Si delinea così il profilo di un altro inetto, nel quale si riconosce la fisionomia dell'intellettuale piccolo borghese di fine Ottocento, incline a nascondere le sue debolezze e i suoi dubbi, alterando e trasfigurando la realtà attraverso schemi e stereotipi che provengono dalla letteratura. Angiolina, per esempio, viene descritta attraverso il punto di vista di Emilio come una creatura angelica, secondo le forme proprie di una tradizione letteraria che prende le mosse dallo stil novismo, per arrivare alla cultura romantica, oppure come una donna fatale, ricalcando un celebre cliché di ascendenza dannunziana e decadente. Come nel primo romanzo, anche in questo caso la narrazione è condotta in terza persona ed è focalizzata per lo più sul protagonista. La voce narrante interviene in modo più frequente e incisivo, con commenti e giudizi spesso secchi e taglienti per smascherare le menzogne e le mistificazioni che provengono dalla coscienza disturbata di Emilio.